Salvò un uomo dal suicidio proposta una ricompensa al merito civile per l'ispettore capo della polizia stradale di Sala Consilina Rufino Tortora. I fatti di cui si parla sono avvenuti a Polla lo scorso mese di maggio, si legge nella delibera dell'Aggiunta Comunale di Polla, quando l'ispettore Rufino Tortora si prodigava per evitare che un cittadino pollese compisse un gesto inconsulto che ne metteva in pericolo la vita. Con l'ispettore Tortora c'erano il maresciallo dell'arma Giovanni Consolo che ha partecipato alla ricerca del cittadino pollese, allontanatosi senza che se ne avessero notizie ed un signore del posto. Qualche giorno dopo i fatti l'uomo si è recato al comune e ha raccontato quanto accaduto. La prefettura di Salerno in riferimento all'intervento effettuato da Tortora ha chiesto al comune di Polla di adottare una deliberazione di giunta necessaria per concedere ricompensa al merito civile. La richiesta prefettizia nasce da una richiesta del ministero dell'interno che intende conferire all'ispettore la ricompensa al merito civile per essersi prodigato quando libero dal servizio ha salvato la vita dell'uomo.